Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Prima di cominciare la liturgia di One More Time, dove partiamo dall'inizio, il mio più grande sogno nella vita era fare il fighter. Quindi io sono cresciuto nel 76 a Parigi, dove c'era un culto pazzesco. Andavo tantissimo a vedere gli incontri di box, quindi box inglese tradizionale normale ed per me era incredibile. Poi è arrivato Van Damme quando ero pischello e quindi il nostro sogno era fare la spaccata, tendenzialmente come Van Damme, schiacciare come Michael Jordan e diventare un fighter tipo Rocky Balboa. Questi erano i nostri tre miti quando erano ragazzini. Quante anni hai, scusa? Io ho 45, ho 46 a breve, a giorni. No, io sono 54, 10 anni. Sì, abbiamo 10 anni di differenza. Allora, partiamo dall'inizio. Io ti guido, o meglio, sei tu che guidi me. Tu mi racconti tutto e io poi ti faccio delle domande a fare delle parentesi. Sì, delle domande. Ti faccio le domande precise. Quando nasci quindi? Io nasco qua a Milano il 138-69. In che zona di Milano vivi? In che zona di Milano nasci? Nasco qua in via Barilli, che è via Montegani. Che quartiere era? Quando eri ragazzino era un quartiere tranquillo, un quartiere un po' caldo, caldo nel senso… Caldo, molto caldo, sì, perché qua ad esempio nel via Barilli, via Palmieri e via Nera, quando ero piccolino io, era una zona abbastanza particolare perché tra queste vie c'erano le cantine, era tutto collegato. Tipo i sottopassaggi segreti? Sottopassaggi segreti, bravo. Quindi potevi scappare senza che nessuno ti vedesse tendenzialmente. Infatti non ti vedessero nessuno, succederano delle cose sotto, sopra. Diciamo che c'erano i balori, i mafiosi, qua c'era droga. E c'erano già i bunker. 50 anni fa, nel senso che da sotto arrivavi ovunque. Infatti quando ci fu questa cosa che sequestrarono tutti, li presero tutti, ci fu una cosa esagerata, arrivarono con gli elicotteri, hanno chiuso proprio tutta la zona perché appunto dovevano chiudere questi passaggi per far sì che li beccassero perché era una scappatoia, entri da una via e esci dall'altra. Adesso non è più così. Adesso non è più così, hanno rifatto tutto. Però ai tempi erano sì brutto, però non so come dirti, era tutto… io ero piccolino quindi non lo sapevo, non capivo. E se tu facevi lo scemo ti pigliano per l'orecchio e ti raddrizzavano, no? Come per dire che se inizi a bucarti a fare queste cose qua non si fanno, vedi di fare qualcos'altro. Invece noi eravamo dei ragazzetti un po' diciamo… Curiosi. Abbastanza. E quindi facevamo le cazzate che si fanno giù. E quindi nel quartiere dove magari appunto, come stavi dicendo tu, si spacciava, succedevano cose, però i grandi ti dicevano non diventare così. Non diventare come noi. Quindi cercavano sempre di proteggere il quartiere. Però tu nasci, cresci in una zona dove… Avendo quei riferimenti e quegli esempi. Bravissimo. Poi avendo la mia situazione, non avendo una via di uscita, io pensavo di non avere una via di uscita perché ero giovane, ero piccolo, non capivo nulla e ti ci butti. Perché sei attratto, perché tu… Non è che sei attratto, il problema è che, non so come dirti, ci vivi, ci sei dentro, è come il cane che si morde la coda e finché non sei mossa e non sei fatto male non riesci a capire… Cioè per te quella è la vita, è una cosa normale. È una cosa normale perché tu poi comunque, io ero giovane, ero piccolino, non capivo nulla e non sapevo che il mondo era ampio. Poteva essere anche diverso. E quindi tu da cosa nasci cosa e poi tutte le situazioni che si creavano dentro di me con la mia situazione familiare, ecco. A proposito di famiglia, com'è la famiglia? Sei il più piccolo, il più grande, quanti fratelli, sorelle? Allora, io sono il più piccolo. Ho una sorella grande che abita qua in Giorgio Savoia, ha quattro figli, di cui uno fa il pugile, adesso è insegnante nella mia palestra, e ha dovuto smettere perché ha avuto dei problemi negli occhi, se continua a combattere perde la vista. E poi avevo una sorella che è morta nella zona dove siamo nati e cresciuti noi, è morta a 24 anni per overdose. Più che overdose, evidentemente ha preso l'eroina sporca e morta di Staphylococco. Quindi si è iniettata l'eroina e non è morta subito. Ha fatto prima il suo circolo e il suo giro e poi è morta. Cosa vuol dire ha fatto prima il suo circolo e il suo giro? Perché praticamente prima che entra in circolo, che gira tutto... Cioè dal momento in cui ti fai? Dal momento in cui ti fai, ci vuole il tempo che ti infetta. Ma parli di minuti? Ma forse anche di giorni. Ah, di giorni? O di giorni, perché forse anche un giorno... Quello che mi ha spiegato il dottore, tu ti schiacci un brufolo. Sì. Il brufolo invece che uscire il pus al di fuori ti entra all'interno. E ti infetta. E ti infetta. Ora che circola per tutto muori per Staphylococco. E quindi evidentemente l'errore era sporca. Comunque sarebbe morta lo stesso perché aveva l'HIV. Ad inizi... Infatti in una tua intervista ho visto che lei ti era venuta a parlare e ti ha detto ti devo dire una cosa. Bravissimo. E ti ha detto che aveva l'AIDS. Bravissimo. E che comunque le sarebbero rimasti pochi mesi di vita. Sì, sì, questo. E quando ti hai detto questa cosa, in quel preciso momento, come sei stato? Eh, se si può dire... Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. In quel momento non me l'aspettavo. Anche perché io l'amavo, mi sa, io volevo bene, no? Era un punto di riferimento, no? Più di quella grande. Infatti quella grande... Come si chiamava? E mi eri Maria Letizia. Infatti mia figlia si chiamava Letizia Maria. E quindi quando mi disse quella cosa ci rimasi... Quanti anni avevi? Io le avevo... Ero al militare 18 anni. E hai pianto? O ti sei fatto vedere forte? No, no, non... Avevo poche lacrime. Adesso ne ho tante, a differenza, no? Perché non ne avevo. O forse perché non capivo, o forse perché avevo la testa in un'altra parte. Comunque tantissima rabbia. Molta rabbia. Cioè le poche lacrime che hai esternato da ragazzino si sono trasformate comunque in un cumulo di rabbia che avevi dentro di te. Sì, è quella che poi ho trasformato nella... Che poi dopo ci racconti. E quanto tempo dopo quella dichiarazione lei è venuta a mancare? Fai conto che è venuta a mancare? Io ero militare, ci siamo visti un pochettino, io poi sono partito e lei è morta il 5 agosto dell'89. La pensi, ci parli, vai al cimitero, ti penti di qualcosa rispetto a lei? Io sono fatto così, non vado al cimitero, non vado da nessuna parte, perché sono fatto che c'è tutto dentro qua. La penso perché, come penso mia mamma, come penso a mio papà, come penso a tutte le persone che mi sono mancate, che mi sono state vicino, perché fanno parte della mia vita e se quello che sono oggi, diciamo, tra virgolette, tante cose le sono grazie a loro. Quindi io, sai, si dice che facendo sport fai anche un po' di meditazione, ecco. Tante volte sono stanco, morto così, c'ho acqua da mezz'oretta, mi metto sdraiato e penso un po' alla respirazione, a togliere la stanchezza così e entro nel mio mondo e mi vedo mia sorella, mio papà, mia mamma. Il tuo cimitero è mentale, sei connesso a loro. Perché a me andare lì e vedere quella roba lì mi dà fastidio, no? E quindi sono dentro di me, sono sempre vivi nei miei pensieri, nel mio cuore, nella mia testa, che nessuno mi può togliere questa cosa, quindi finché quando morirò. Ti capisco, io e mio papà è venuto a mancare quasi vent'anni fa e sono andato al cimitero due volte e magari la famiglia dice ma perché non ci vai, ma perché non ho bisogno di andare lì per pensare a lui, per essere connesso a lui. Anch'io, come te, avevo molta rabbia nei suoi confronti perché mi ha menato tantissimo quando ero ragazzino, ma poi solo negli ultimi anni sono riuscito a entrare nella fase del perdone. Oggi ho proprio voglia di dirgli non solo quanto lo amo, ma soprattutto di pensare a tutte le cose belle che ha fatto, mentre prima pensavo soltanto alle cose brutte. Torniamo ai tuoi genitori. Che genitori sono stati? Ti hanno amato, coccolato? Per quel che mi riguarda e che mi viene da pensare, alla mia mamma, fino a quel momento in cui non sono diventato quello che poi sono diventato. Vuol dire un pugile? Vuol dire aver preso quella strada dello sport? Quella strada dello sport. Quanti anni avevi quando l'hai presa quella strada? Sono ucciso militare 19 anni. Ok. Alla mia mamma non la conoscevo neanche. Cioè nel senso che arrivavo a casa, tanti ricordi X, te lo dico subito così, non ho mai avuto i genitori. Nel senso, non c'era dialogo. Non c'era dialogo e non sapevo mai come andava la vita, cioè non mi davano consigli. Guarda che fuori c'è il mondo brutto, c'è questo, quell'altro. Praticamente me ne sono sempre cavate da solo. Tu entravi a casa e dicevi ciao, ma? Mangiavate? Entravo a casa, ma mangiavo e poi me ne andavo in camera. O uscivi? O uscivo. Base all'età? X. Come andavi a scuola? Andavo a piedi. Nel senso che non potevo andare bene a scuola perché non avevo la testa per andare bene a scuola. Perché per quanto sono cresciuto con la violenza in casa, tra mio padre e mia mamma, e mio padre era violento, mia mamma era malata. Malata da quando eri piccolo? Era malata da quando ero piccolo perché aveva avuto un sacco di problemi. Era malata al cuore, però lei ha avuto anche sempre un sacco di problemi, fin da giovane, che mi raccontò che lei era caduta dal terzo piano, si è spaccata tutta, poi è riuscita a sopravvivere nel tempo, poi le medicine, tutte queste cose qua che danno i dottori, è sempre vissuta, però nel suo passare del tempo, sempre con le medicine, sempre con il dottore, poi le crisi steriche, delle crisi mentali che gli hanno fatto venire il suo marito alla morte della figlia e poi anche mi ci sono messo un pochettino a fare lo stupido prima che diventasse. Perché eri ribelle, nel senso che creavi problemi? Non è che creavo problemi in casa, però fai conto che non ci andavo mai in casa, non c'era, non esistevo. Mangiavi e dormivi? Io mangiavo e dormivi, era un albergo. Ma questo è un albergo? Perché appunto andavo sempre in giro perché non volevo stare in mezzo a quella situazione in cui stavo, ecco. Ma quando tu mi parli di una mamma malata, quindi hai il ricordo di una mamma che si curava tendenzialmente, per motivi diversi, le mancavano le energie? Nel senso, quando tu dici, io non ho avuto una mamma, nel senso che non ti abbracciava, non ti coccolava, non ti diceva amore ti amo, non ti faceva un complimento, non ti dava un consiglio sulla vita, era perché era stanca da questa cosa nel curarsi sempre o perché faceva fatica a dimostrare i sentimenti? Ma no, a parte che aveva tutte queste cose che mi hai appena detto te, ma poi era la situazione in sé con il marito, con mio papà. Perché che uomo era tuo padre? Perché mio papà era inesistente, quando veniva a casa era violento, perché io mi ricordo che fin quando ero piccolino lui lavorava, faceva il parchettista, ero dei flash dove io giocavo con lui, ho dei flash che stavano bene, gli avevamo scherzavamo, a un certo punto questo flash è partito dal fatto che la notte io stavo dormendo, bello tranquillo e mi sveglio con i casini di mio padre che entrava in casa ubriaco e spaccava tutto. Che età avevi più o meno? Avevo 7, 8 anni, 6, 7 anni. Lo ricordi tu da solo o te l'ha ricordato tua madre? No, 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 mi ricordo tutto, cioè come se fosse adesso, che entra la paura. Quindi tu da javevo, mi cagavo letteralmente addosso perché c'avevo proprio paura. Dormivi con le tue sorelle in camera? No, le mie sorelle dormivano da sole dall'altra parte, io dormivo con mio papà e con mia mamma, però in un lettino a parte. Nella stessa stanza? Nella stessa stanza e appunto quella notte mi svegliai con un macello incredibile, no? Quindi i botti prendeva, le mie sorelle le picchiava, la picchiava, spaccava tutto. Cioè in piena notte quando tornava ubriaco? Piena notte, tornava ubriaco. Senza motivo? Arrivava e spaccava tutto. E poi gridava come un pazzo. E a te non ti toccava mai? All'inizio non mi toccava, cioè non mi ha quasi mai toccato, l'ha sempre fatto casino. E siccome queste case qua adesso le hanno ristrutturate, prima c'erano i vetri fini, 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 fini. Se uno scorreggiava... Lo sentivi? Eh, lo sentivi, no? Quindi lui già da lontano lo sentivi perché non so, perché gridava sempre, faceva il pezzettino di strada, passava il cortile, entrava nelle scale, saluto, gridava sempre come un matto e poi saliva e spaccava tutto. Quindi se la prendeva con i più deboli? Se la pigliava sempre con noi, perché evidentemente perdeva le carte, perché lui dopo ha iniziato a essere... Giocava e beveva. Giocava e beveva, quindi perdeva o vinceva, poi perdeva e quindi se la pigliava con noi. Quindi mia madre evidentemente era sopraffatta da questa situazione che... Poi lui era anche un bell'uomo per quanto mi ricordo, era sempre in gioca e cravata. Mi ricordo che questa cosa qua non la so, non me la ricordo bene bene. Mi ricordo solo perché lui era sempre ben presentabile perché faceva il truffatore, credo. Andava in giro con i quadri, veniva con le carte, veniva con dei vestiti. Faceva sempre un po' di cavolate, no? Che penso adesso che sono grande, che truffavano. E poi, essendo un bel uomo, penso che se ne andava anche con le altre donne. E tante volte mia madre... Ho dei ricordi di liti, di queste cose qua. Sai, quella puttana tua e tutte queste cose. Quindi lui usciva se ne andava e poi tornava dopo tanto tempo. E quando tornava, ubriaco, faceva casino e faceva violenza domestica in casa. Poi tante volte polizia, ambulanza, carabinieri, perché anche i vicini chiamavano per tutto il casino che faceva. E giocando giocava anche i soldi, dei beni primari, far mangiare la famiglia intendo, pagare l'affitto. Assolutamente sì. Avevate questi problemi? Avevamo questi problemi perché avevamo problemi di fame. Io ho sofferto... Fai conto che non si mangiava nulla perché lui, quando magari vinceva, invece che pensare alla famiglia, se ne andava a giocare. E mi ricordo che quando ero piccolino mi mandava a chiedere le limosine a me, nelle scale, nel condominio. Magari andavo giù dai signori che ci conoscevano. Però la limosina qual era? Il fatto non che andava a chiedere un pezzo di pane, un po' di prosciutto, che ne so, da mangiare. Perché lui aveva le sigarette. Vai a chiedere le sigarette. Mia mamma chiede le sigarette. E poi io quando ero in casa, a volte mangiavo... C'erano dei barattoli con il pane grattugiato, con la fame. Mi ricordo che facevo tanta di questa vita qua. Poi ogni tanto quando si ripidava, veniva a casa con la spesa, qualcosa si mangiava. E' quello che io poi ero sempre in giro. A cercare chissà che cosa. Magari andavo a casa di amici che mi facevano mangiare, sapere la situazione. E quindi ero sempre via. A scuola non se ne sono mai accorti? Assistenti sociali? Assistenti sociali li ho avuti, ma a scuola non... Per quello che mi ricordo non ho avuto aiuto da nessuno da parte della scuola. Ho sempre avuto i miei compagni, amici che mi portavano a casa loro ogni tanto e magari mangiavo qualcosa con loro. Poi appunto per questa situazione ero molto riservato, molto chiuso in me. Non volevo vedere nessuno. Vagavo in giro come un matto. Perché ti vergognavi della vita? Mi vergognavo della mia situazione infermigale, certo. Perché tutti comunque ti additavano, guarda. I tuoi pensieri, che ero piccolino ma che camminavo e pensavo che quelli pensavano di me. Sai, ti fai film, no? Guarda quel figlio di quel delinquente, che ne so, di quel alcolizzato, povero. Hai tutti questi pensieri, no? E quindi io stavo sempre da solo. Poche volte andavo a casa di amici perché mi vergognavo. Poi dopo piano piano del tempo vai avanti e cerchi di... Comunque va a fare a me, ti fa fare tante cose. In quei momenti in cui ti vergognavi e quindi uscivi per i cavoli tuoi e avevi le paranoie delle etichette che ti potevano mettere, chi sognavi di diventare in quel momento? Che soluzione vedevi nella mente per uscire da quella situazione che hai raccontato? Nessuna perché ero troppo giovane e non capivo niente di quello che potevo fare, di quello che potevo diventare. Ma volevi scappare? Ero troppo timido. Ero troppo... Non avevi quel coraggio di prendere una grande decisione? Ero troppo spaventato, non sapevo nulla. Avevi paura di tuo padre? Avevo paura di tutto. Avevo paura di tutto. Avevo paura di mio padre, non di mia mamma. Avevo paura della situazione. Avevo paura del giorno. Avevo paura di alzarmi la mattina, andare a casa la sera. Era una vita così. E questa paura che avevi, quando eri piccolo, essendo picchiato, eri un po' anche bullizzato dagli amici, ti sentivi? No, no, anche perché io comunque ero così, come se non adesso con i capelli. Cioè nel senso ero un po' più grosso e evidentemente facevo timore, avevo un po' quindi non ero bullizzato. Quindi avevi quella roba che ti faceva da scudo senza dover neanche parlare. Sì, evidentemente la mia faccia triste, cupa e magari era un po' cattiva. Sembrava un po' incazzata e cattiva. Sembrava che è incazzata, quindi tante non si avvicinavano neanche. Dopo, quando stavo crescendo, iniziavo a diventare un po' più grande, iniziavo ad andare un po' in giro a lavorare per mantenerci. Che età? E ho iniziato a 13 anni, ho mollato alla scuola. Hai mollato in terza media? Ho mollato, sì, ho fatto poi le serali. Per le superiori hai fatto le serali? No, 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 per andare a lavorare, perché mia madre e mio padre continuavano a dirmi che dovevo fare lo scuola, lo studio, diventare una persona intelligente, barbava, tutte queste cose. Solo che io a un certo punto gli disse, ma che cosa vado a fare a scuola? Che non abbiamo neanche niente per me. Che cosa mi mangio i libri? Cosa mangiamo? Allora cerco di andare a lavorare e fare qualcos'altro. Non so cosa diventavo, perché non ce l'avevo degli obiettivi. E quindi iniziai ad andare a lavorare, a fare tutti questi lavori. Come lo trovi il primo lavoro? Il primo lavoro lo trovo grazie, grazie tra virgolette, delle conoscenze di mio padre, che però lui appunto essendo alcoolizzato, facendo debiti, tutte queste cose qua, questo signore che mi prese praticamente mi sfruttava. Al che ai tempi quando eravamo piccolino il lavoro lo trovavi in un attimo. da me nel mio cortile era pieno di muratori che avevano bisogno di manovalanza e quindi ho cambiato subito il lavoro. Infatti io litigavo con questa persona, mi ricordo, e da lì iniziavo a essere un po' ribelle. Iniziavo a capire che si poteva iniziare a fare qualcosa. In che senso si poteva iniziare a fare qualcosa? Come stesso, perché iniziavo a realizzare e quindi ho iniziato a lavorare e questa scena che mi ricordo, il fatto che io faccio un lavoro, prendo i soldi, e ai tempi c'erano i padinari, gli stivali, i moncler, i pantaloni bianchi, ti ricordi? Io non l'abitavo in Italia però mi ricordo Americanino, il Ciarro, il Durango. Bravo, però noi più amiamo quelli dei poveri, non quelli dei poveri, perché costano troppo. Letti in Berland. Bravissimo. E io mi ricordo che andai a comprare queste cose qua perché avevo i soldi, sono andato a casa e c'era mio padre. E allora ti ero fatto la roba così e mi dice dammi lo scontrino per vedere cosa hai pagato. E io ho mia mamma, adesso a me, a mia mamma non mi ricordo bene, forse a mia mamma. E io dico ma cosa vuoi? Sono i miei soldi. Sono i miei soldi, faccio quello che voglio io. Hai 13 anni in quel momento? 6 mesi di mezzo. E mi ricordo che c'era una scena che litighiamo, entriamo in camera, faccio il giro del letto, metto qua, apposo la mia roba così, mia mamma litiga con mio padre, mio padre mette le mani addosso a mia mamma, io faccio un salto, proprio faccio un salto del letto, prendo il mio padre e sono cose che non si dicono, che non si fanno, però in quel momento lì violenza, chiama violenza, non si deve fare, però per tutto quello che avevo dentro, la rabbia, così sono partito. Per la prima volta l'hai sfogato nei suoi confronti? Per la prima volta l'ho picchiato, pensando che proprio lui si alzasse e mi ammazzasse di botte, invece mi ha fatto proprio niente, si è alzato e poi si è andato, ho detto adesso va giù, prende qualcosa, ma niente. Non ti ha fatto niente secondo te perché l'hai dominato o perché eri suo figlio e non voleva farti del male? Secondo me ero un maschio, secondo me ero il calabresi, montanaro, capatosta così, io ero il figlio prediletto, credo che sia questo, non lo so, non l'ho mai capito. Cioè non hai letto nei suoi occhi questa… No, te l'ho detto, io ho iniziato a capire le cose dopo. 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 E quindi da quel momento in cui lo fai smette di metterti le mani a dolce? Cioè a te non l'aveva mai fatto, ma la tua famiglia? No, 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 lui continua, lui continua imperterto finché io poi vado a militare, poi inizia ad ammalarsi, poi muore per cancrena e fino a che lui non va in ospedale è sempre così. Ma quando succede quella lite per i soldi, lui da quel momento ti chiede di mettere i soldi in casa? No, non mi dice niente, poi finisce tutto, torna e… Quindi tu non dovevi dare i soldi in casa, potevi spendere i soldi che guadagnavi lavorando? Ma io gli ditevo comunque i soldi in casa, ce li ditevo comunque. Perché ti rendevi conto che c'era bisogno? Sì. Ti davi a lui o a lei o a tua mamma? A mia mamma, no, mi ha sempre dato mia mamma i soldi. Ok. E poi la droga, mi hai parlato di tua sorella, no? Com'è successo all'inizio, nel quartiere? Nel quartiere, sì sì, nel quartiere. Beh, all'inizio è successo che come si è giovani, inizi a farti la prima cannettina, inizi a fare le prime scimate, no? Con le cani partivi con l'alcol, aspetta che torni un passo indietro. Vai, vai, certo. Torni un passo indietro. Allora, mio padre era un alcolizzato, io non lo sapevo. Ed era violento. Io cosa facevo allora? Quando arrivavo a casa, c'era il vino, io bevo il vino, adesso io bevo il vino, e io lo faccio a metà così, ne bevo di meno, magari non si ubriaca, però mi ubriacavo io, no? Che età? Quando fai questo? Eh, avevo 13 anni, 12, 13, 14. Quindi hai 13 anni e hai cominciato a darci dentro, ok? Darci dentro. E quindi inizio, no? Inizio a bere pensando che lui non si ubriacasse. Invece ho capito dopo, negli anni, che lui o un bicchiere o una bottiglia era la stessa cosa, era proprio alcolizzato. Poi uscivo, mi facevo le canne, e le canne erano l'unica cosa che mi tranquillizzavano, e da lì ho iniziato a capire che cos'era la droga. Però non era quel fatto che io andavo in giro, mi fumavo le canne, mi fumavo la sigaretta per farmi vedere. Era perché io proprio sentivo il bisogno che questa cosa mi calmasse, non mi facesse pensare a quello che succedeva. Io quando ero piccolo mi ricordo che qua ci sono gli elementari, non c'è la scuola, c'è la Cesare Battisti, io andavo in classe, quando sentivo le sirene io andavi in ansia. Cioè io non avevo mai… Perché ti ricordo da tuo padre quelle notti lì? Le notti, il giorno, perché lui faceva casino quando voleva. Cioè quando arrivavo, faceva casino, e metterò le mie mani addosso a mia mamma, mia sorella, tutti quanti, no? E tu come fai a stare attento a scuola? Se hai sempre l'ansia, sempre i pensieri, la paura, di tutto, no? E quindi quando avevo iniziato a scuola… Ma quindi avevi a scuola fumato? No, io ti parlo dopo. Dopo? Prima ero ansioso, ero sempre… Era un bambino che non era un bambino, cioè non mi sono mai divertito. Non sapevi cosa fosse la leggerezza? Non sapevo niente, io non sapevo nulla. Ero sempre con l'ansia, adesso arriva mio padre, sempre i pensieri, fa casino chi sa mia mamma, sempre così. Poi quando sono cresciuto ho iniziato a capire che cos'era queste cose qua e mi calmava, no? Vedevo che l'alcol mi calmava, il fumo. E ho iniziato a fare lo stupido, no? Poi sono passato alla cocaina. Dalle carne alla cocaina? Sì, subito, ho partito subito, ho 13, 14 anni, sono partito subito. E come è successo la prima volta? Chi te l'ha proposta? Perché eravamo tre amici in compagnia, no? In compagnia si faceva la colletta per andarsi a prendere il fumo, così poi c'erano i ragazzi che eravano in compagnia, che pippavano. E allora dai gioco, fai, fai, fai. Non avevi paura? No, non ho mai avuto paura. Cioè non avevi paura di provare la cocaina? Non avevo paura, non sapevo che io non avevo paura di niente in quel momento, avevo solo paura di mio padre e delle situazioni in cui stavo vivendo. E poi per lei non mi interessava niente, ma neanche di me, soprattutto se dovevo morire, non me ne fegava niente, no? Cioè non davi valore alla tua vita? Non davo valore a niente perché non sapevo niente. Vivevi la giornata? Bravissimo, vivevo la giornata perché non sapevo di domani che cosa succediva, non sapevo neanche la sera, se esistevo, se non esistevo, tutti i pensieri che ti fai nella testa. E poi da lì è iniziato tutto e è iniziata anche l'eroina. L'eroina ha iniziato a provare come era. Aspetta, a 13 anni provi la cocaina una sera in compagnia e te la fanno provare? Faccio le prove e niente, ma anche le carne non facevo niente, non sentivo nulla. E dove ritrovavi i soldi? Perché lavoravi per questo che potevi permetterti la colletta con gli amici e il comprare? Bellissimo, prendevo le mille lire, magari c'era mia mamma che prendeva la pensione e qualche soldo mia mamma me lo dava per andare in giro, no? Andiamo nella progressione delle droghe, a 13 anni provi la cocaina e poi continui a farlo o era una parentesi? Ancora giocavo un po' a pallone, un po' facevo le mie cose. L'evoluzione di tutto questo è successa quando io sono andato a militare e sono scoppiato. perché poi io ho avuto una ragazza, prima del militare. Questa ragazza era l'unica persona che mi dava amore. Ok. Era la prima volta che ricevevi amore? Era la prima volta che io ricevevi amore. Ti sentivi importante per qualcuno? Mi sentivi importante per qualcuno. Nel frattempo che io sono militare succede, allora mi lascia lei. Muore tua sorella. Muore mia sorella e io sono impazzito. Cosa vuol dire sei impazzito? Sono impazzito perché pensavo che la vita era una merda e da lì ho iniziato a farmi di eroina. Prima non era mai successo? Non era mai successo. Eroina in vena o pipavi? In vena, sì. Prima ho iniziato a pipare, poi ho iniziato a farmi e poi facevo tutte e due. Quindi stavi facendo quello che ha fatto tua sorella che era appena dovuto mancare. Stavo facendo e una volta prendo un acido e mi sale male, mi sale malissimo, voglio morire. Infatti dovevo partire per andare al militare, vado in stazione e mi volevo lanciare sotto il treno. Se proprio non volevo più niente, non volevo vivere. Dicevo che cazzo voglio fare, cosa ci sto a fare, non c'è futuro, non c'è nulla. Non sapevo, sai che c'hai quegli attimi, no? Ci sono quegli attimi dove tu... Di sconforto importante. Di sconforto e quindi sta arrivando il treno, io si avvicina, si avvicina, si avvicina. Lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, non so cosa mi è successo. Per fortuna l'ho fatto e quindi mi tiro indietro. Però comunque l'effetto dell'olio che ce l'avevo. Mi ricordo che poi sono salito sul treno e essendomi salita male, avevo paura di tutto, di tutti. Non so, mi è venuta una cosa di paura allucinante. Avevo paura delle persone che mi stavano vicino, avevo paura di tutto. Non so perché mi ha preso in quel modo lì. Arrivò al militare, lì continuo ad avere questa situazione. Cioè anche lì a militare ti facevi? Anche ti facevo tutto. Quando mi organizzavo io ho iniziato a fare il pazzo. Dov'è che l'hai fatto il militare? A Treviso, al distretto militare di Treviso. Quindi tu andavi a Treviso e lì compravvi e ti facevi? No, no, io me la portavo, c'avevo tutto. Ti facevi di eroina lì? Ti facevo e poi bevo whisky, mi ammazzavo. Tutto questo per stare bene con me stesso. Da solo o con altri? Da solo, da solo. Sempre fatto tutto da solo. Ti drogavi da solo? Da solo, sì, sì. Lo facevo in Carraia, lo facevo quando facevo i servizi militari, lo facevo in cucina, lo facevo sempre. Però quando ti fai di eroina ti accasci a un certo punto, no? Eh, ma è quello il problema, che non mi accasciava. Mi faceva diventare, non so, mi faceva stare bene. Ok. Un po' di volte mi sono ritrovato accasciato e morto, però non so che cos'è. E non ti hanno mai beccato? Beh, mi facevo sempre da solo, non mi facevo vedere. Eh, ma se hai accasciato a terra, nessuno ti ha mai beccato. Nel momento in cui me lo facevo, lei facevo di nascosto, me lo facevo da scemo. Ma tipo di notte? O di notte o di giorno, se non c'è o di giorno, ero sempre imboscato. Io fino a quando sono diventato poi un atleta, fino nel 98, che sono diventato… Che scaglione eri tu a militare? Ero il nonno 88. Ok. Lì ho iniziato ad essere una persona normale, tranquillo, a parlare, a iniziare a diventare quello che sono adesso. Però aspetta, passano dieci anni dal militare a quel momento, giusto? Sì. Quindi la naia la fai così dove rischi tendenzialmente tutti i giorni? Rischio tutti i giorni, sì, perché non me ne fegava più niente. E dove trovi i soldi per comprare, visto che non stavi lavorando? Perché la decade era una misera, 150 mila lire. Perché me la prendevo, la prendevo a… A Milano? La prendevo a Milano, la prendevo a un credito e poi la vendevo e… Ah ok, quindi spacciavi? E poi mi… Cioè ti ripagavi il tuo consumo con quello che rivendevi? Sì. Ok. Faccio queste cose… E fai un anno di militare così? Dodici mesi erano, giusto? Quando eri stato tu? Sì, sì. Ok. Poi che succede? Poi succede che a un certo punto sono… Mori mia sorella, mori mio papà, mia sorella è morta… Tuo papà durante la naia? Durante il militare? Sì, a gennaio. Ho appena finito forse. Tu hai detto che eri l'ottavo scaglione? Il 5… Nonno, 88. Nonno, quindi sei congelato a settembre. A settembre sì, e poi dopo è morta a gennaio. Ad agosto è morta mia sorella, è morta a gennaio, però X non è che me ne sia fregato tanto, ma me ne è fregato tanto da mia sorella. Cioè lì sono andato fuori di testa. E il tuo padre non ti ha fatto né caldo né freddo? Né caldo né freddo. Poi continuo a fare il coglione in giro per Milano ancora e la cosa che mi ha fermato è stato un giorno con mia mamma che l'ho vista abbastanza sofferente. Lei lo sapeva che tu ti stavi drogando? Le mamme non sono sceme. Ma non gliel'hai mai detto? E non te l'ha mai chiesto? Non me l'ha mai chiesto. Però mi diceva stai attento, non fallo stupido. Ti dava dei messaggi? Mi dava dei messaggi. Al che poi io ho detto no basta, io non devo far soffrire perennemente mia mamma. Non so cosa è scaturito dentro di me, cosa è successo. E ho detto appena trovo lavoro mollo tutto. Vado in giro, faccio le domande per il lavoro, dopo un po' mi... Sempre nel quartiere come quando eri Pischello? No, 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 andavo in giro per le strade a cercare lavoro così. Trovo in una ditta di asfalti, lavori edili, la strada, queste cose qua, e mi prendono. Perché ai tempi avevo fatto una scuola di macchine di movimento terra, mi chiamarono e io riuscì da un giorno all'altro a smettere. Ho detto basta, non faccio più. Che età è? Quando succede? Nel 91. Quindi hai 22-23? Due anni dopo il congedo? Sì, mi ricordo un mese che sono andato in palestra, che avevo i primi soldini per pagarmi la palestra. Aspetta, ma prima di quel momento, quindi passano ancora due o tre anni dove fai il matto. Sì. Qual è la cosa più illegale, più fuori di testa, dove hai preso il più grande rischio che tu abbia fatto in quel periodo? Eh, quando andavo in giro con la roba. Per vendere? Per vendere. Mi cagava da un soldi. Ma come vendevi? Vendevi a gente che conoscevi o andavi fuori dei locali? No, 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 io vendevo a gente che conoscevo e basta. Nel quartiere? Nel quartiere, sì. Quindi il rischio grande è che avevi tanta roba addosso? Sì, però la cosa furba era che in quel momento in cui avevo la roba addosso, mi cagava addosso, perché non avendo mezzi, non avendo niente, camminavi con la roba addosso. Quindi metti i casi che ti fermavano a questa roba qua a parlare con te, perché era tanta. Poi io non mi sono mai tenuto niente addosso, né soldi e né droga. E dove le mettevi? Le mettevo, le imbuscavo giù nelle cantine, in posti dove nessuno poteva andare. E quindi… Ti è mai capitato che ti fermasse la polizia o tu la vedessi e buttassi tutto quello che avevi addosso? No, un giorno mi sono venuto a prendere per l'orecchio perché ero in una zona dentro un bar con dei miei amici che stavano giocando a carte, mi hanno preso e appunto volevano sapere dove la prendevo, chi me la dava, chi lo faceva. Per farti smettere o…? No, no, perché volevano prendere tutto. Il giro. Volevano prendere tutto il giro. Io in quel momento non c'eravamo niente, quindi non potevano arrivare niente e gli dico io non sto facendo niente, io mi faccio solo le canne e basta. Non vedo, non faccio… Guarda che noi sappiamo anche quando vai a fare la pipì e noi ti ci prendi in giro, lo sappiamo tutto. E quindi come te la sei gestita questa situazione? No, sono gestita perché io non c'eravamo… Hai detto no, io non faccio niente, io fumo le canne e basta. E poi appunto anche perché non tenevo mai niente addosso, mai, niente. Anche in quel momento avevamo perquisito, per fortuna non c'eravamo niente e non mi potevano fare niente. È successo un momento tipo quello del treno dove hai detto adesso mi butto, un altro momento del genere dopo il militare, un momento di sconforto assoluto? No, poi dopo è andato, non so come, è andato tutto in salita. Perché ormai era la tua vita, eri abituato quindi… A me sì, è cambiato tutto da quel giorno che sono andato a lavorare. Quindi trovi lavoro e smetti dalla sera alla mattina. Dalla sera alla mattina. Ma quando si parla di dipendenza dell'eroina, nel senso che fai proprio fatica a smettere, come hai gestito questa cosa? Ma perché non avevo… te l'ho detto, io non mi facevo perché volevo farmi… perché avevo questi pensieri che mi volevo togliere la testa. Io stavo male, 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 male. Quindi col cervello riuscivi a controllare questa cosa? Non so perché, per come, avevo questa forza qua. Quindi hai smesso veramente, non l'hai mai più fatto? Non ho mai più fatto niente. Niente, niente. Questa cosa che faccio mi bevo la birra perché mi piace. Ok, ma dico droghe, zero. Adesso mi fanno schifo. Quindi tu trovi lavoro, subito dopo ti iscrivi in palestra? Subito dopo trovo lavoro. Inizio in palestra, ci vuole il suo tempo, dove praticamente mia mamma era in vita, mi alzavo alle tre del mattino, quattro del mattino andavo a lavorare. Una mattina corro per andare a prendere il tram perché altrimenti perdevo… e mi sento uno schifo, no? Ma com'eri fisicamente? E pesavo 120 kg, ero ciccioni. Ok. Allora ho detto, no, non deve andare così. Allora inizio a lavorare, inizio a mettere un po' di soldi, riesco a paghermi nella palestra e vado in palestra. Nel frattempo, prima che successe questo, io facevo il coglione sempre in giro e qua passa un tram che si chiama il 15, la freccia del sud, lì in via Montegani. Ok. E io, per farmi passare la storta, prendevo il tram, magari andavo fino in Duomo, poi dal Duomo tornavo indietro, andavo a grattussoglie per tornare indietro. Cioè stavi su e ti ripigliavi? Stavo su per farmi ripigliare, sì, ma mia mamma non era una scema, cioè lo capiva, no? E un giorno, una sera, scendo, c'era sempre questo ragazzo con una borsa, che c'era scritto Doria Totip. Allora vado da lui a chiedere, ma che cos'è, cosa fai, no? E questo ragazzo abitava nella mia stessa vita, io abitavo nel vento e lui abitava in fondo della strada. Mi parlò della palestra, così, e io dentro i miei gli dissi, vabbè, ci vediamo, no? E quel ci vediamo, non so, è come se nella mia testa, avevo detta a lui una cosa, pensando che lui mi aspettasse, no? E allora ha scaturato un qualcosa, un meccanismo mentale. Mentale dove io pensavo che lui aspettava me, che io avessi fatto la figura. E poi tutte queste cose sono nate, sono cresciute e hanno fatto sì che mi sono iscritto, alla dora dove andava lui e mi sono pesato 120 kg, mi sono presentato, no? Sono entrato dentro una paura fottuta, perché tutti che picchiavano i vaccini, c'erano di quelle bestie. Paura o vergogna? Tutte e due. Perché io ero molto... Chiuso. Chiuso, molto timido, molto... Io ho iniziato a parlare nel 98, ho iniziato... Adesso mi devi fermare, mi devi iniziare a una bastonata per stare zitto. Però prima di parlare ce n'è voluta. Allora vado in palestra e c'era il mio vecchio maestro, il nonno. La palestra era una figata perché tu scendevi, era in via Mascani, scendevi, c'era il meccanico, entravi dentro la palestra, c'era un pezzettino di corridoio, poi c'erano le porte a mo' di far west, no? Entravi dentro, attraversavi la palestra, che non so neanche come ho fatto attraversarla, il coraggio che ho avuto per andare dalla palestra. Parlai con il maestro e mi scrissi. Visto che lì eri super timido e imbarazzato, avevi voglia di uscire da quella palestra e di non iscriverti, cos'è che ti ha dato la forza di rimanerci, di dicere, cazzo, sono fuori luogo, sono sovrappeso? Lo vorrei capire anch'io. Magari uno che ti ha detto, dai vieni qua... No, 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 il coraggio che ho avuto. In quel momento lì il signore è stato tranquillo, cioè è stato tutto composto, non c'è stata una virgola fuori posto, solo l'unica cosa è che c'era questo enorme, tutto tatuato, gigante, capito, finito, insomma, guardate, sono cagato d'osso, e sono entrato in palestra, ho iniziato a fare la ginnastica, a fare tutte le cose che si fanno in palestra, però nel frattempo mi ero messo anche a dieta da solo, tutto questo da solo, tutto da solo. Il fatto di smettere di fumare, il fatto di smettere di farmi, il fatto di smettere di fare tutto, tutto da solo sono riuscito a fare, non sapevo di avere tutta questa forza qua. E sono andato avanti, sono andato avanti, iniziato ad andare a calare di peso, lavoravo, mi facevo il culo perché mi alzavo le quattro la mattina, finivo di lavorare alle 5 del pomeriggio facendo l'asfalto, facendo tante cose, quindi inizio a calare di peso, poi tutte le volte che finivo di lavorare, arrivavo alle 5 e mezza, alle 6 in palestra e aspettavo il mio turno, mi sedevo e vedevo quelli che facevano l'allenamento, che si picchiavano, che facevano spari incondizionato, e dentro di me, perché non lo posso fare anch'io? Allora un giorno sono andato al maestro e gli disse al maestro, maestro ma vorrei provare anch'io, ma guarda, ma dove cazzo è che sono ciccione di merda, devi dimagrire di più, va bene. Ti ha dato lo stimolo? Mi ha dato lo stimolo, più mi insultavano più mi incazzavo e più... Volevi dimostrare che tu ce la potevi fare? Ce la potevo fare. Quando eri sovrappeso facevi fatica ad allenarti, sentivi che ti impediva di fare cose? No, perché forse evidentemente che era piccolino, ho fatto anche un po' di calcio, giocava a pallone, ecco è da lì che io poi ho iniziato a fare ancora lo stupido, perché a calcio mi mandarono via per colpa di un figlio di un dirigente che faceva il mio stesso ruolo. Cioè ti hanno mandato via dal club? Nel senso non è che mi hanno mandato via, non mi facevano più giocare. Allora mi sono girato le balle, mi sono andato, sono uscito fuori dall'oratorio e poi ho iniziato a fare i casinetti e queste cose qua. Vedi che piano piano ritorna tutto. Quindi vado in palestra, mi dice no devi dimagrire, io dimagrisco, inizio. Perché da quel momento dici io vorrei forse fare dei combattimenti. Sì ma tutto questo però perché l'ho fatto? Perché comunque il fatto di smettere tutto senza aiuto, senza nessuno, senza capire come si faceva, la mia forza è stata data dal fatto che io uscivo fuori dal quartiere. Quindi mi alzavo presto la mattina, me ne andavo e non vedevo tutti gli amici che tu in quel momento sei debole, sei debolissimo. Perché certi amici ti tirano in mezzo a quello che era quella vita lì. Allora magari fatti una canna, dai facciamoci una cosa. Allora evitavo tutto questo perché mi sentivo un debole. Allora cosa facevo? Facevo tutte le cose per far sì che io non incontrassi loro. Quindi lavoro lungo, palestra e non li becchi mai. Orari diversi. Orari diversi e tutti i giorni, quindi quando facevo lunedì, mercoledì, venerdì e pugilato, martedì, giovedì, sabato e domenica me andavo a nuotare. E avevo proprio cambiato vita completamente. Finché non sono diventato forte. Quanto ci è voluto? Appena iniziato a combattere. Fai conto che io ho iniziato il 91-92 a combattere. A gennaio del 92 sono andato in finale dei campionati d'Italia. Quindi ho fatto il passo più lungo della mia gamba. Da quella volta lì l'ho detto sono un pugile, basta, sono forte, non ce n'è più per nessuno. Primo incontro, come l'hai vissuto mentalmente? Avevi paura o eri talmente tarato su quell'obiettivo che per te era quasi un allenamento. Quando sono andato a combattere, la prima volta c'era il mio maestro. Come si chiama? Si chiamava Sirtoli. Non c'è più? No, no, c'è ancora, c'è ancora, però lui adesso è di un'altra parte, di un'altra parte. Però è stato il tuo primo? Il mio primo maestro è stato il nonno, però lui mi portò... Il nonno come si chiama? Ottavio Tazzi, che adesso lui purtroppo non c'è più. Che in un documentario era il maestro dei maestri. Il maestro dei maestri. Adesso mi portò a Savona e fece questo debutto, vinsi, e siccome noi eravamo tanti puggi, tantissimi, una quarantina, e c'erano più maestri, andavamo sempre in giro. Un'altra volta, non mi ricordo adesso dove, penso il secondo combattimento, quindi questo Sirtoli non poteva venire, è dovuto andare in un'altra parte, ma poi ha parlato di un altro maestro, che questo non mi ricordo come si chiama, e mi ricordo che io ero seduto negli spogliatoi, aspettavo il mio turno, e io ero bello seduto così come sto parlando con te, e maestri che facevo avanti e indietro, mi faccio guarda che devo combattere io, non devi combattere te, mi stai facendo nervoso, tranquillo, per dirti come la prendevano. Poi pensavo che andando avanti, facendo i combattimenti, più diventi forte, più incontrivo di forti. Ecco, più diventavo forte e meno avevo d'ansia. Cioè io proprio zero, per me andare a combattere era come stare a parlare qua con te, quindi avevo una forza. Il sicuro di te era una... Sì, tu quando ti alleni, quando fai le cose perfette al 100%, quando ho imparato dalla vita sportiva, poi con tutte le mie forze che ho imparato a conoscermi, se tu sei preparato, sei pronto, devi essere il tuo avversario che deve avere paura. Qual è stato il coach più illuminante che ti ha dato questo mindset? Il nonno. Poi lui si chiama Ottavio Tazzi, il maestro, sono entrato in nazionale, fai conto che da quando sono uscito dalla militare, che ho smesso tutto, in due anni ho fatto il passo più lungo della mia gamba. Sono andato in nazionale nel gennaio del 93. Lo dici nel senso che hai bruciato le tappe? Ho bruciato le tappe e dico, non sapevo neanche mettermi le fasce, che già subito sono entrato, perché tutta l'Arabia che avevo dentro... L'hai esternata sul ring. L'hai esternata sul ring. Quindi la paura, già non ne avevo prima, dell'avversario, tutte queste cose qua, non l'ho mai avuta. Infatti al mio maestro non chiedevo mai chi era il mio avversario, quando combattevo. Gli chiedevo sempre quando combatto. E ti preparavi e basta. Era un periodo bello nel mondo del puggiato, perché si combatteva sempre. Io ho iniziato da peso massimo, oggi ne fai pochissimi combattimenti. Io sono entrato in palestra, sono andato in nazionale, avevo già 40 match. Ho capito che diventavo un pugge in una trasferta in Germania, pugilisticamente parlando. Ci sono dei match che devi fare. Una riunione va fatta di 6 match. Ok. Il mio avversario era troppo forte per me e non si poteva fare il match. Allora gli hanno detto al mio avversario per far sì che non si saltasse dall'unione vai tranquillo, vai piano. Praticamente se smettevo di picchiarlo andavo a terra per dirtelo. Io ho capito che ero pugge e da quel momento in poi ho fatto tutta la mia vita sul pugilato. Com'è la tua carriera da quel momento in poi? Da quel momento in poi tutto in salita. Inizio a combattere, combatto con questo ragazzo qua, mi alleno, cambio tutto. Cober si chiamava, era tedesco. Vado avanti, dopo tutti i lavori da asfaltista inizio a fare l'aiuto a cuoco perché l'asfaltista era durissimo perché appunto mi alzavo prestissimo la mattina e finivo tardi al pomeriggio alle 5 a settimo milanese. Prendevo il pullman, dormivo, arrivavo in palestra, mi allenavo, poi finivo l'allenamento, andavo a casa, dormivo, mi alzavo la vita della cosina. Sempre con tua mamma? Sempre con mia mamma, sì. Perché mia mamma è morta poi nel 2000. e lì con mia mamma è iniziato, quando sono diventato pugge, l'amicizia, ha iniziato a capire tante cose di mia mamma. Quindi lì è iniziato il dialogo, tutto quello che non c'era da bambino. Tutto quello che non c'era da bambino è diventato poi tutto rosa e fiori, no? Il fatto che da coglione che ero in giro, così che anche lei penso che si vergognasse ad andare in giro perché sei lì quindi a essere orgogliosa perché ti sapevo che facevo il pugge, che vincevo e quindi è diventato bellissimo. Quando cominciai a guadagnare con la box? I primi soldi? Allora, ma io già quando ho iniziato a lavorare non è che guadagnavo male, cioè quindi lavoravo male fai conto che io prendevo 3 milioni e 200 mila lire al mese. Che era tanto. Era tantissimo, chi cazzo è mai lo stipendio medio era la metà. Eh ma io lavoravo dalle 4 del mattino alle 5 del pomeriggio quindi dalle 4 alle 7 Eri pagato tipo il doppio? Eri pagato il doppio e poi facevo tutto il lavoro da una mattina perché il mio lavoro consisteva non so se l'avete mai visto in strada questi camion enormi con delle bonze dove Bonze che sono i rulli? No, aprono questa cosa e cade giù l'asfalto Ah certo e ripristano l'asfalto queste si chiamano bonze io facevo quel lavoro lì Ok caricavo queste bonze tutta a mano quindi appena finivo le bonze poi andavo in strada a fare il lavoro quindi il lavoro era non so ai tempi non c'erano tutte le macchine che ci sono adesso piccoline i bobcat gli escavatori piccolini dovevi fare tutto a mano quindi io mi facevo il culo quando ero in palestra il maestro lo sapeva e mi faceva fare un tipo di lavoro diverso tipo i lavori di forza non me li faceva fare mi faceva fare i lavori di scioltezza poi inizia a diventare forte e poi girato arrivo in finale degli italiani a quei tempi c'era il commissario tecnico io persi con uno che era fortissimo lui doveva passare il professionista e io ho appena iniziato l'anno prima ero un coglione poi sono diventato mezzo stavi disciplinandoti stavo disciplinandoti bravo e perso questo ragazzo che si chiamava cantatore che era fortissimo vinceva tutti i match prima del limite io ho perso però ho perso in piedi e gli ho dato del filo da torce in piedi vuol dire sei andato hai fatto tutti i round tutti i round a quel tempo il commissario tecnico gli piacquino però già lì lavoravo in discoteca cioè stavo dicendo dei lavori che chiamano i passaggi da asfaltista aiuto cuoco aiuto cuoco in discoteca butta fuori butta fuori allora eravamo liberi tranquilli di notte passava sempre quello della gazzetta portare i giornali corriere la gazzetta prendevamo la gazzetta e leggevamo sempre quello che c'era scritto dietro tutto notizie campionati italiani e bababab solite cose abbiamo trovato un ragazzo che potrebbe essere un bel pugile lo chiamiamo il nazionale Fragomini Giacobbe allora lì è festa ci sono ammazzare abbiamo fatto un sacco di casino cazzo mi hanno chiamato veramente il 6 gennaio allora vado in nazionale e da lì inizia la vita quando ti chiami in nazionale per la prima volta a livello di emozioni è esagerato ho detto in nazionale c'è la più bella notizia della vita infatti poi a mia mamma anche così però non è che io ancora ero sano di testa cioè le mie paure i miei fantasmi le mie mostre le mie scimmiette ce le avevo sempre quindi più sfumate più sfumate però sai devi lottare con te stesso per vincere per capire è un allenamento quotidiano fuggilato ha fatto sì che questi mostri diventassero i miei fratelli i miei amici e quindi tant'è vero che adesso proprio non so neanche cosa sono però comunque andiamo avanti entro in nazionale facciamo primo ritiro mi diedero 800 mila di euro perché io ho lasciato il lavoro bla bla il fatto sta che andiamo in Canada in Canada c'è il dual match il dual match praticamente fai il primo match e poi fai la rivincita ok non so il martedì combatti e il venerdì fai la seconda poi il sabato la domenica prendi il ritornio però se doveste vincerne una testa come fate la bella è uguale non c'era questa cosa qua il problema fu che dalla parte dei canadesi io avevo un medaglia di bronzo ai mondiali appena svoltisi e quindi questa era forte cosa succede faccio il match con questo ho visto la madonna di Milano che mi salutava un sacco di botte mi ha spagato il naso e mi ha dato un montante al fegato che veramente e sono riuscito comunque a stare in piedi non sono andato col culo per terra ho finito il match e l'avevo perso tranquillo il fatto sta che poi nel secondo match si pensava che mi diedero un altro avversario chi c'era? lo stesso quindi naso rotto giustamente il commissario tecnico mi disse vuoi combattere non vuoi combattere per me non c'è problema ho detto no io voglio fare il match non mi interessa sono qua a posto ci sono dei ragazzi che vorrebbero avere il mio posto combattere con la madonna azzurra cioè su queste cose sono grato e onoro quindi lo faccio il fatto sta che faccio match perdo lo stesso però gli do un sacco un filo da torce allora quella volta lì il commissario tecnico si è innamorato di me dai cocones che avevo dal fatto che non avevo paura di niente nessuno e mi ha tenuto e poi piano piano con la nazionale ha iniziato a migliorare a migliorare a migliorare poi questo commissario tecnico era molto forte perché ha vinto un sacco di medaglie con Oliva Parisi e poi tanti altri Puggi aveva vinto un po' di Olimpiadi e nel tempo stava calando sempre di più ma perché i Puggi cambiavano i tempi cambiavano e a un certo punto c'è stato un problema nel mondo della nazionale italiana lasciò la nazionale in procinto delle Olimpiadi di Atalanta entrò Patrizio Liva come commissario tecnico io lo conobbi sempre due al match perché io essendo il peso medio massimo massimo più forte di quei tempi ero diventato forte ai tempi si poteva combattere tanto perché si poteva andare in giro per il mondo non so la campagna e la rappresentativa italiana andava a fare questa cosa la Lombardia alla campagna gli mancava il medio massimo allora mi chiamarono a me come medio massimo e andai a posto di uno che era fortissimo era il Maradona del pugilato che si chiamava Pietro Laurino era fortissimo solo che come dicono i napoletani tiene la capa per sparte le orecchie tiene la testa per dividere le orecchie c'era la testa tutta sua allora io andai là e facciamo questo dual match io feci un match da professionista quindi Patrizio in quel momento lì si è innamorato di me e mi chiamò in nazionale e da lì mi ha cambiato la vita pugilistica mi ha insegnato a diventare quella che sono diventato poi nel pugilato e con lui continuai a stare in nazionale e con lui vinsi un sacco di tornei tantissimi tornei e nel 98 sono diventato campionista d'Europa dei dilettanti e lì non ti dico mia mamma ma si vedevano in televisione questi match e tua mamma poteva da casa guardarti no era ancora tutta roba vecchia allora io nel 98 quando sono diventato campionista d'Europa c'erano ancora la regliere presi un bel po' di soldi e poveri perché noi eravamo poveri debiti tutti i vecchi debiti di mio padre con quei soldi li ho pagati tutti mio padre prima di morire mi ha detto beato chi muore in culo a chi resta e io l'ho capito dopo quando è morto perché mi ha lasciato 70 milioni di debiti tra le cose non pagate di affitti le cose quindi a un certo punto comunque mia mamma era malata e io dissi mamma abbiamo tutti questi soldi qua perché non abbiamo casa ce ne andavo in un'altra parte e lei era malata era molto malata mi diceva e guarda io ho tutte le mie amiche qua tutto qua paghiamo l'affitto paga tutto quello che c'è da pagare e lasciami qua io voglio morire qua volontà di mia mamma facevo tutto quello che voleva anche per dargli la felicità di tutto quello che non non si era goduta in passato quindi me la sono goduta cioè non me ne fegava proprio niente e l'ho fatto e lo rifarei ancora per cento volte quindi quanti soldi vinci in quel momento? allora in quella metà mi diedero tipo loro pensavano che passassi professionista allora per tenermi tipo 200 milioni ah wow mica poco sì non era poco e quindi in un istante a zero i debiti di tuo padre fai rimanere tua mamma lì sempre quella 3 milioni queste cose però 200 tutti insieme e tanta roba sono diventato ricco e beh poi ero scemo non capisco un cazzo inizio con le macchine tant'è vero che questo studio qua era una concessionaria era la prima macchina l'ho presa qua ok in questo studio qua ecco che adesso torno a tutte le cose che era il vecchio Ranger Rover secolo verde certo tutto di ferro così presi quello che mi avevamo anche lì bella pagai tutti i debiti mi avevamo tranquillo io tranquillo basso poi piano piano ho vinto all'europeo poi sono diventato medaglia di bronzo oltre a tutti gli altri toni che ho vinto importanti mi sono qualificato alle olimpiadi hai fatto il bronzo terzo posto? ho fatto al mondiale il terzo posto a Houston no magari alle olimpiadi le olimpiadi sono state una roba bruttissima per quanto riguarda il fatto delle qualificazioni perché da peso massimo che ero campionato d'Europa non mi sono qualificato quindi vado da Patrizio e dice Patrizio e mo nella nostra squadra mancava il medio massimo io ero 91 kg di muscoli e lui ha detto vuoi vedere che questo uomo vuole fare il medio massimo e mi sono messo in testa di fare il medio massimo e ho fatto il medio massimo ho perso praticamente 11 kg di muscoli con il preparatore atletico con la dieta seguito tutto seguito non come quando eri ragazzino che facevi tutto da solo bravissimo e quindi sono riuscito a codificarmi e siamo andati a fare le olimpiadi arrivo a quelle olimpiadi per quanto sono stato fortunato io nella mia vita e sorteggio il più forte di tutti il cubano becco il cubano e mi danno la sconfitta pazienza anche lì finisci in piedi anche lì finisco però in quel periodo che c'era la preparazione noi siamo dovuti andare in Nuova Caledonia 20 giorni prima per abituare il corpo nel frattempo arriva la chiamata del fatto che mia madre era in ospedale e non stava bene non mi stavano dicendo che stava morendo comunque questa cosa me la ricordo benissimo come se fosse adesso nel momento del match col cubano sentivo che c'era qualcosa che non andava niente faccio il match delusione mi mise a piange e feci subito il biglietto per tornare in Italia sono tornato in Italia e ho beccato subito mia mamma che era ancora viva mi ha guardato mi ha sorriso e se n'è andata ed è morta no? vabbè questa è stata una cosa bellissima che mi ha aspettato e mi ha salutato quindi mi ha lasciato un grandissimo ricordo però adesso sto dico così perché mi è passato però in quel momento lì sono andato proprio sotto sono andato proprio sotto mi ricordo che sono andato all'ospedale per un mese un mese e mezzo mi sono alcolizzato cioè alcolizzato bevo solo rum 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 mi ubriacavo sempre non ti allenavi? non mi allenavo un mese e mezzo zero a un certo punto mi sono andato che cazzo stai facendo a testa di cazzo tu hai una la vita cioè così orgogliosa di quello che hai costruito non buttarlo via ma sei scemo allora boom ho scavato ho toccato la merda sono ritornato su subito e mi sono rimesso sono passato professionista e poi è nata la carriera professionistica e da lì anche lì ho avuto un po' di alti e bassi alti e bassi perché nel momento in cui stavo per salire inizia mi spacco la mano poi da un'altra parte mi spacco l'altra mano da un'altra parte mi spacco il braccio però lì non sono mai andato fuori di testa sono sempre stato concentrato per perché volevo poi diventare campione nel mondo e mi sono spaccato la mano e ho perso dei mesi poi non mi sono mai fermato e non ho mai pensato ai dottori ho sempre fatto di testa mia perché i dottori sono un po' sul che vado a essere attento non fare questo non fare quell'altro io invece mi sono sempre fatto gli affari miei ho sempre provato quando io picchiavo vedevo che se mi facevano male stavo un po' più fermo o se no non lo usavo se loro ti dicevano che dovevi guardare in 4-5 mesi io in 2 mesi ero già pronto questa operazione del braccio è da lì che nacque poi il libro e io mi sono spaccato il bicicletto bracciale mentre combattevo questo è successo il 5 novembre e praticamente mi operano a gennaio non ho più ma prima ti avevano detto che era compromessa la carriera o no? no no perché finché non mi hanno aperto quindi io non lo sapevo non facevo e mi fece l'operazione quando me l'ha messa a posto passa tanto tempo e gli chiesi ma dottore qua ma se magari mi va passare un anno e mezzo dottore allora anche lui siciliano uno tosto forte e ha detto io ti ho attaccato ma il camera si stacca prova se senti dolore con camera sono partito a testa bassa ho iniziato a provare da chi mi dissero che dovevo stare un anno e mezzo o due io mi sono operato a gennaio a giugno sono salito sul ring e da lì poi c'era questo scrittore che ci siamo conosciuti perché è un amico del dottore e partita dopo la cosa del libro e nel libro di cosa parli? di tutto quello che ti sto raccontando ok è proprio tutta la tua storia sì tutta la storia quindi faccio questo match e parto quando io sono passato professionista sai quando sei nazionale sei coccolato hai tutto c'hai i dottori hai il fisioterapista hai l'allenatore mangi fai tutto lì è un team intorno a te tutto intorno a te quando passi professionista sei da solo ti devi trovare il medico ti devi trovare il nutrizionista ti devi trovare tutto quello che c'era in nazionale quindi cerco di trovare qualcuno per capire com'era il professionismo perché facendo tanti anni nel direttantismo sono passato professionista e ho fatto fatica perché gli allenamenti sono completamente diversi le riprese sono molto più lunghe ma tutto quello che è l'apparato di allenatori di preparatore atletico te lo devi trovare da solo o c'è una sorta di team che ti porta dentro? te lo trovi da solo perché tu sei professionista e tu devi trovare tutti i componenti che stanno intorno a te e che vuoi che siano come te e come hai fatto? nel tempo hai conosciuto tante persone hai messo insieme i puntini poi mi misi con un professionista che era uno ai tempi dei più forti al mondo come pugile un italiano un italiano che si chiama Giovanni Paresi che è stato il più forte negli ultimi anni prima che morisse mi misi con lui ad allenarmi con lui a imparare a diventare professionista e nel frattempo quando ero con lui quando conobbi questo ragazzo qua che poi avevamo scritto il libro lì ho tolto tutta la merda che aveva nel mio corpo tutto lui mi disse che voleva sapere come ho fatto io a essere così tranquillo dopo questa operazione come ho fatto a trovare la forza di risalire e allora mentre lui veniva da me a scrivere così stavamo parlando alla fine gli ho detto sai che ti dico te l'ho fuori da merda che ce l'ho a dire ti racconto tutto e da lì sono partito e ho raccontato tutto quello che che è stata una terapia quindi hai pulito hai perdonato hai tolto dal tuo corpo tutto il negativo bravissimo e da lì poi è nato tutto sono andato a combattere con uno sempre di steppe sempre avanti sempre avanti sempre avanti al che arrivo a fare il titolo d'Europa con uno che a quei tempi era più forte di tutti perdo però faccio un match incredibile gli do del filo la torce ti ricordo il nome dell'avversario si chiama David Ayer se poi vai a vederlo metti i fragomini David Ayer e vedrai il match questa squadra era più forte di tutti vinceva a prima del limite era uno che nessuno un killer bravissimo vabbè poi perdo il match così ho detto vabbè a caldo dico basta non vado bene per fare il pugge ho incontrato uno forte già ma mi sono un po' demoralizzato poi piano piano mi diceva tu non sai che cosa hai combinato che cosa hai fatto chi ti dice questa cosa? me lo dice il manager tutta la gente l'allenatore me lo dicono tutti quelli che erano dello staff tu non sai che cosa hai combinato hai fatto una roba grandiosa poi adesso nel tempo c'è un grande incontro è stata una roba anche lui stesso che poi è diventato campionero nel mondo è diventato campionero nel mondo anche della categoria superiore ancora oggi quando parla di me parla che dice che c'è stato uno dei pochi puggi che l'ha fatto penare ma nella conferenza stampa c'è stata una lotta , tra me e lui in psicologica del fatto con i giornalisti dove mi dicevano ma tu sei chi è? e io dicevo perché lui non sa chi sono io allora lui è più forte inglese io sono calabrese e sono più forte della Calabria allora facciamo tutti questi scherzi lo sai che lui potrebbe buttare giù e lui diceva io ti butto giù alla terza ripresa e se sono io ti butto giù a tutte queste guerre psicologiche alchea quando c'è stato l'incontro alla terza ripresa lui mi prese con un diretto destro che io lo chiamo la transiberiana mi ha preso forti con un ferro che lui con quel destro li metteva tutti col culo per terra e io gli ho riso in faccia io ho una box tipo la Tyson tra virgolette non ho la forza di Tyson però sono un trattore non ti mollo mai sempre lì quindi ti colpisco tu mi colpisci cioè magari ti manda a vuoto sono sempre lì a rompere le scatole e lui dice questo qua sempre che non sapevo cosa fare poi dopo la fortuna gira lui mi prende bene la non ripresa e vado con quello per terra e abbiamo deciso di non andare avanti però l'anno dopo quel match lì era il titolo d'Europa con la semifinale e la qualificazione per poi andare a fare il mondiale lui vince quindi vince il titolo d'Europa diventa campione d'Europa e vince la qualificazione per il mondiale il pugile che doveva contare che si chiamava Mormec più o meno era stesso fisico stesso pugile un po' più forte però non aveva il mio movimento di tronco così vabbè mi chiamo a fare la sparring lo sparring parte quello per simulare l'incontro l'incontro e l'avversario e quindi siamo diventati amici per questa cosa qua anche lui diventa campione del mondo dei massimi del genere nella mia categoria e dice io lascio vado nella categoria superiore solo se fate fare il mondiale a Fragomeni si fece questa cosa qua e io poi dopo due anni sono diventato campione del mondo quindi 2006 quella cosa che mi hai raccontato 2008 diventi campione del mondo 2008 divento campione del mondo nel 98 divento campione d'Europa dei dirittanti ok prima quando parlavi del team hai detto la parola manager a cosa serve un manager nel mondo del pugilato ai tempi serve per parlare con altri manager per fissare gli incontri per fissare gli incontri sì solo questo serve un manager nel mondo del pugilato o serviva non lo so e a rubare tutti i soldi che ti piglia a lasciare stare questo però serviva soprattutto a organizzare con gli altri manager gli incontri sì perché quando sei un professionista è un po' come nel tennis dove più vinci ogni torneo diciamo ha un monte premio non so la dico male no 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 lì non c'è nel tennis come guadagni un pugile il pugile guadagna in base a come si mettono d'accordo i manager quindi sull'incontro sull'incontro e la cifra da chi proviene proviene da un'asta che fanno i manager 100 mila a te va 60 e a me va 40 ma chi li tira fuori i 100 mila dai biglietti gli sponsor i biglietti chi vince l'asta quindi il manager che vince l'asta si deve appunto preoccupare di far sì che ci siano quei soldi dopo sì i due manager si devono organizzare o solo il manager che vince l'asta il manager che vince l'asta deve preoccuparsi di pagare i due pugili di organizzare il tutto quindi le riunioni il sottoclou e tutto questo va con non so in Italia funziona che tu vai al comune il comune e la regione poi ci sono i biglietti poi ci sono gli sponsor poi c'è la televisione tutte queste cose qua i diritti intendi i diritti sì e tutto questo poi lo divide il manager rispiegami cosa vuol dire vincere l'asta che non l'ho capito loro fanno un'asta due manager un e l'altro fanno un'asta il tuo manager è quello dello sfidante è quello dello sfidante bravissimo che fanno un'asta ok l'asta non si sa è a busta chiusa tra di loro tra loro due tra loro due tu metti 100 lui mette 101 vince chi ha 101 ma l'asta è chi mette il monte premio più alto più alto ok e chi apre queste buste chi è il giudice il lente dove si organizzera l'incontro è come una gara d'appalto bravissimo ok e il manager che percentuale prende su un pugile dovrebbe prendere dal 20 al 30 e un pugile guadagna anche sugli sponsor no? cioè quali sono gli entroiti ai tuoi tempi quali erano gli entroiti ai tuoi tempi ma io avevo uno sponsor mio personale che eravamo amici e quindi mi aiutava nel compiere il mio percorso da professionista quindi le fonti di guadagno non erano quello che portavi a casa quando combattevo anche se perdevi prendevi soldi? sì 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 lo sapevi già prima quanto prendevi? sì sì il manager diceva vuoi prendi questo qua e va bene che tu vinco e perdere la stessa cifra? la stessa cifra sempre la stessa cifra più gli sponsor e c'erano altre voci di introito quando tu facevi il pugile? tramite amici così ma se no niente cioè guadagnavi dallo sponsor che fosse tuo amico o meno che ti dava il grano e dal combattimento punto erano le due fonti di guadagno sì ritorniamo al 2008 sei campione del mondo per la prima volta sì tua mamma non c'è più mia mamma non c'è più c'è il mio maestro che per me era la figura più importante che c'era tua sorella in tutto questo quando tu stavi facendo questa carriera pazzesca non c'era già più l'altra sì però l'altra sì ma l'altra non ci siamo mai cioè c'è ma è come se non ci fosse non avete rapporti? no ce l'abbiamo però non io c'ho la mia vita lei c'è la sua è successo qualcosa a un certo punto nella vostra vita? no no non è successo nulla tra me e mia sorella non avete mai creato quel legame in più diciamo no tante volte se potevo l'aiutavo voglio dire è solo che lei ha scelto di fare la sua vita le sue cose io la mia quando posso l'aiuto e basta tutto qua però non avete un rapporto non abbiamo un rapporto io c'ho la mia famiglia lei c'è la sua famiglia ma ci vediamo ci sentiamo il suo figlio che è mio nipote lavora con me quindi quindi tua sorella è il sangue del tuo sangue ma non c'è questo amore dichiarato sì e il fatto che non è più tuo papà tua mamma e l'altra tua sorella non ti ha detto cavolo magari mi avvicino a lei cioè mi vivo l'amore perché ci sono delle cose che per cui bisogna stare tanto tempo quindi è successo qualcosa? no diciamo che non è successo niente però nel percorso per colpa di alcuni di uno dei suoi figli è successo un primo cuore quindi cioè so come è fatta mia sorella e allora non voglio entrare nei particolari nelle cose io mi faccio gli affari miei adesso faccio gli affari suoi e basta però comunque ci vediamo ci sentiamo ogni tanto la vado a trovare quando diventi campione del mondo nel 2008 hai già moglie, figli? ecco questa è un'altra cosa particolare dicendo che donne io a Zecco ho il lanternino ho una donna che però non è mia moglie con lei faccio un bimbo prima del 2008 tu hai due figli giusto? sì faccio una bimba che adesso è ha 17 anni il 5 di novembre eh? il 5 di novembre mi sono spaccato anche il braccio cioè comunque il 5 era un numero sfortunato adesso è diventato fortunato da quando è nata mia figlia e questa donna qua faccio la bambina e poi in che anno nasce tua figlia? mia figlia nasce nel 2005 quindi a tre anni quando diventi campione del mondo a tre anni quando diventi campione del mondo e lì succede una cosa tra me e questa donna qua e sua mamma e sua mamma la lascio me ne vado nell'anno in cui diventi campione del mondo? nell'anno in cui diventi campione sì posso sapere cosa è successo? eh non mi va di dirlo perché ok non mi va comunque non eravamo più d'accordo andiamo avanti e questo non andare più d'accordo ha segnato il fatto che io me ne andassi perché c'era questo fattore che non andava bene che non vi trovava più in comune accordo e quindi poi ci sono stati i primi po' un po' di sai che quando ci si lascia c'è un po' di casino ma nello stesso tempo mi sono trovato con un'altra ragazza che pensavo fosse più intelligente di lei e invece dalla padella sono caduta l'abbraccio e poi ho lasciato pure questa ragazza e dopo ho conosciuto mia moglie però questo poi nel tempo quella che adesso la moglie attuale mia moglie attuale mamma del tuo del piccolino del maschio quindi femmina e maschio Giulio? no Junior Giacobbi Junior si chiama ok e e tu lo chiami Junior però? io lo chiamo Junior si e quando sento che lo chiamo Giacobbi ti giri tu e invece so che è lui niente quindi nel 2008 succedono tante cose belle brutte o meglio diventi campione del mondo quindi il più grande sogno si è realizzato però non è che me lo sono goduta così tanto perché c'era il primo di questa situazione qua in cui ci siamo creati nel senso che mi sono lasciato con la mamma di mia figlia mi sono messo insieme a quest'altra ragazza qua quest'altra ragazza qua anche lei creava dei problemi quindi neanche me la sono goduta poi così tanto nel frattempo nel mezzo io mi sono messo cioè dovevo fare la difesa la difesa l'ho fatta subito tipo qualche mese del titolo mondiale e ho avuto un sacco di problemi con questa ragazza qua però la mia mente il mio fisico erano impostati per il combattimento e feci un altro match sei mesi dopo una roba del genere e siamo già nel 2009 a Roma sì nel 2009 difendo il titolo un altro match pazzesco pazzesco qualificato da WBC che è l'ente dove sono diventato il campione del mondo in quell'anno dove c'erano tutti più forti il match più drammatico di tutto l'anno è più duro perché io sono andato giù col culo per terra due volte nella nuova ripresa poi mi sono alzato e ho finito il match e sono andato a pareggio a pareggio e mi sono mantenuto il titolo ah funziona così quindi se si va se perdevo perdevo il titolo a pareggio mantieni il titolo quindi sei campione del mondo anche nel 2009 e divento campione del mondo per due anni consecutivi per due anni consecutivi poi vado a fare una sfida con un altro campione del mondo che era nei medio massimi per fare questo incontro lui è salito nella mia categoria io sono sceso di peso e perdo il titolo poi cerco di riconquistarlo e rifaccio con quello che ho fatto a Roma e perdo 2010 2011 2010 poi lo ritento e lo riperdo sempre con questo che avevo fatto a Roma ho fatto tre volte con lui quindi era la tua bestia nera si di cui una ho perso basta la seconda volta che ho combattuto a Chicago non so se tu mi vedi questa cicatrice qua non molto se mi vieni vicino poi la vedi perché è stata fatta bene non è stata cucita ma è stata fatta bene e la chiusura praticamente l'arbitro dice stop io mi fermo eravamo messi in una maniera un po' strana e lui ti tirava quando è stop è stop lui non si è fermato mi ha messo un pugno mi ha aperto io sono caduto a terra l'arbitro mi conta a me e ho capito che il match era perso quindi ho fatto qualche ripresa in più però c'era un taglio che era troppo e mi sono detto c'ho figli molle che cazzo benefica a me di contatto basta non ho fermato mi fermo vuol dire perché io sono ignorante non sono andato avanti a fare quindi non è non è il tuo allenatore che getta diciamo la spugna ci siamo messi d'accordo cioè vi siete guardati siamo guardati e ho detto di no basta ma lo decidi tu o lo decide lui chi dà il segnale chi è che combatte quindi è il fighter che dà il segnale all'arbitro certo no no all'allenatore però è l'allenatore che dà il segnale non tu quindi tu guardi il tuo allenatore ma la persona autorevole in quel momento per farlo è l'allenatore è l'allenatore ok questo volevo sapere e ci fermiamo basta finisce il match la cosa bella che mi rimasta nel cuore è averlo visto negli occhi il giorno dopo abbassato lo sguardo ed è cioè hai capito come ha vinto io mi ero preparato perfetto al 100% non riusciva a vincere aveva visto che io avevo fatto delle cose proprio per lui lui mi colpiva io paravo gli rispondevo non riusciva a prendermi avevo proprio studiato bene bene la tattica per batterlo ha visto tutto questo e allora ha vinto con la squadrettezza ti faccio una domanda come ci si prepara nel pugilato in quegli anni quindi più di dieci anni fa per studiare l'avversario vedevi dei dvd cioè come funzionava no io sinceramente con Patrizoliva la mentalità che mi ha insegnato è quella che ti ho detto all'inizio io mi alleno do il 100% sono sicuro di me sono sicuro di aver fatto tutto a me basta sapere se l'avversario è guardia normale o guardia mancino poi sul ring può capitare tutto io ti posso studiare però tu combatti con un altro è quel tipo di pugilato hai capito? ok quel tipo di pugilato che fa quell'avversario non è il mio tipo di pugilato chiaro e quindi ti posso studiare posso capire determinate situazioni ma come ne fa altre perché io ho un altro tipo di pugilato però il fatto di studiartelo un po' come nel calcio dove studi l'avversario capisci i punti deboli sai come entrare sai come sorprenderlo ma io avevo una box stranissima ok la tua tra virgolette la mia che non c'era bisogno di studiare l'unica cosa che lui faceva un male si dice quindi era potente che hanno il colpo del capo e lui c'era il colpo del capo c'era dei mari proprio di pietra e cosa è successo che lui aveva un accordo con la Everlast la Everlast fa dei guanti micidiali li fa piccoli quindi ti arriva di più il colpo e poi gli uccano forte e succede questa cosa qua alla fine vinci per una terza volta il campionato del mondo giusto? però con un altro pugile che è branco il silver si chiama un'altra cintura diciamo che è un po' più basso però da lì poi riparto in alto solo che iniziavo a diventare troppo vecchio e non mi facevano poi rifare la stessa cosa e divento per la terza volta campione del mondo nel 2012 con Silvio Branco e quando smetti la tua carriera? smetto cioè quando la interrompi nel 2017 poi cosa fai? diventi allenatore? poi divento allenatore adesso c'ho una palestra e alleno e tutto quello che ho imparato io da tutti i miei allenatori sto cercando di insegnarlo a tutti i ragazzi io so che tu avevi poco fa un pugile parlo del passato perché ho saputo proprio ieri che invece non è più così che si chiama Alessio Lorusso quindi io l'ho visto combattere ti vedevo al suo fianco quindi nei video che trovavo su YouTube ho detto cavolo ha switchato è passato dall'altra parte vuol dire manager questo? no no allenatore il manager è un altro è un altro non è il tuo lavoro no no io faccio l'allenatore io insegno ai ragazzi quello che mi hanno insegnato a me i miei allenatori ma non lavori più con lui? con Alessio Lorusso non lavoro più come succede? cioè perché uno cambia allenatore? perché non si va d'accordo quando tu fai il pugile devi tagliare tutti i rami secchi perché il pugile deve avere la testa quello che hai detto tu quando cambiavi strada cambiavi cioè volevi evitare tutte quelle cose che ti ancoravano al passato bravissimo e lui è ancora ancorato al passato sì però lui ci siamo lasciati perché ha un'altra testa un'altra cosa e quindi non va bene è un buon atleta da un punto di vista è un grande atleta molto forte è un talento però il talento se non lo alleni non va da nessuna parte e lui la cosa brutta che ha questo ragazzo è il fatto che adesso non so ha cambiato tutto magari lo sta facendo io non vado dire ci mancherebbe altro è che se ne andrà solo il maestro gli dice di fare una cosa e non la fa cioè non ascolta il preparatore atletico gli dice di fare una cosa non la fa se ne andrà solo allora vai da solo quindi è forte a livello pugilistico sì però se non però devi allenare la mente se non hai uno staff tecnico vicino non va da nessuna parte qual è il tuo più grande obiettivo togliere le persone dalla strada qual è veramente l'obiettivo della tua vita oggi oggi è insegnare a quelli che vengono in palestra da me a credere nel loro obiettivo per andare avanti e se ci sono dei ragazzi in difficoltà li voglio aiutare certo se mi arriva qualche problematico è normale che lo aiuti qua stiamo accorciando la fine dell'intervista perché ti ha chiamato tua moglie durante e abbiamo sentito urlare e quindi e tu sei un agnellino ma il motivo per cui state insieme da così tanti anni e tu l'ami è proprio perché c'ha le palle quadrate e ti sa tenere testa se io non ci avessi lei per quanto io non so gestire le cose per quanto noi siamo bravi buoni si dice che siamo dei coglioni ma non siamo bravi noi che siamo dei coglioni sono gli altri che se ne approfittano di noi lei è una grande donna con le uovas è una grande manager e quindi grazie a lei sto facendo appunto la mia seconda vita ultima domanda ancora per poco se non mi ne va infatti ultima domanda poi ti lascio andare ti voglio chiedere se hai paura della morte mai avuta non ci hai mai pensato non ci ho mai pensato da quei tempi in cui la rischiavi tutti i giorni oggi invece gli dai un valore diverso ma non ci penso ok non ci sto pensando in questo momento forse sono ancora troppo giovane per pensare alla morte poi capace che riesco fuori di qua per andare di fretta da mia moglie mi stiro un cane per dire non ho mai avuto questo pensiero l'unica paura è che viene dimenticato cosa significa che comunque dopo tutto quello che hai fatto nello sport nella vita nel mandare avanti questi ragazzi così la persona muore quando viene dimenticata se invece rimani nel cuore nella mente degli altri non sei sempre vivo è questa la paura che ho tra virgolette che è anche la paura di tutti grazie Giacobbe grazie a te grazie a te grazie a te